Il Paradiso, nuove puntate, Gemma potrebbe vendicarsi mettere in crisi Marco e Stefania. L'appuntamento con le nuove puntate del Paradiso delle Signore Sette che saranno trasmesse nel corso di questa stagione invernale su Rai 1. Rivelano che ci sarà spazio per il ritorno del tutto inaspettato di Marco. Il giovane nipote della Contessa rimetterà a piede a Milano dopo un periodo di assenza ma... Questa volta, non sarà affiancato dalla sua dolce metà, Stefania. E, a quel punto, ecco che Gemma potrebbe tornare all'attacco e vendicarsi della sorella stra provando a far breccia di nuovo nel cuore del suo ex fidanzato. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore Sette rivelano che Marco annuncerà la notizia del suo ritorno in città e... Senza alcun tipo di preavviso, farà irruzione al circolo. Il nipote della Contessa De Laide rimetterà così piede in città a distanza di poco tempo dal suo trasferimento in America assieme a Stefania. Intenzionati ad intraprendere un nuovo percorso di vita assieme. Marco tornerà da solo, al suo fianco non ci sarà Stefania e, al momento, non si conoscono ancora i dettagli di questa separazione tra i due fidanzati. Quello che si sa, invece, è che la presenza di Marco non passerà inosservata agli occhi di Gemma, le anticipazioni del Paradiso delle Signore Sette rivelano che... Nonostante la ragazza abbia accettato di frequentare e conoscere meglio Carlos, si renderà conto di provare ancora un turbamento nei confronti del suo ex fidanzato. Insomma, la presenza di Marco in città finirà per colpirla profondamente nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione. Non si esclude che Gemma possa mettere in atto una vendetta spietata nei confronti della sorellastra. Sì, perché in famiglia le cose non stanno andando nel migliore dei modi, Veronica non vede di buon occhio il rapporto lavorativo tra Ezio e Gloria. Mamma di Stefania, e continuerà a soffrire. A quel punto, approfittando dell'assenza della sorellastra in città e nutrendo ancora un interesse nei confronti di Marco. Ecco che Gemma potrebbe passare all'attacco. Non si esclude che nel corso delle prossime nuove puntate del Paradiso delle Signore Sette previste entro il 2023 su Rai 1, Gemma possa provare a far breccia di nuovo nel cuore del giovane nipote della Contessa. Lo scopo della ragazza, infatti, potrebbe essere quello di mettere in crisi la coppia Marco Stefania. In questo modo, cercare di riconquistare di nuovo il suo ex fidanzato, dopo che lui l'aveva mollata per mettersi con la sorellastra. Le cose che si leggera sono il momento dalla sorellastra. Ora, il giorno di ragazzare dal mosquito, è rinicciuto con la sorellastra. Le cose che si leggera sono in piccolo, è sempre già passare lui in piccolo. Grazie.